e noi siamo il gruppo nessuno il gruppo nessuno comprende un negozio di vestiti che si chiama nessuno store uno skate park che si chiama arca arca skate park e uno studio di musica che si chiama nessuno studio e un'aggiunta molto importante è l'hamburgeria l'hamburgeria la bireria che si chiama fame noi siamo in viaggia cosa 35 qui troverete un gruppo pazzesco che lavora con la creatività con la musica con lo skate si fa da mangiare da bere quindi ci trovate in viaggia cosa ci trovate in viaggia cosa zona nolo milano e siamo qui appunto a creare questa comunità a fare amicizia fare connessioni e mangiare skateare vestirsi e registrare musica e tanto altro quindi viaggia cosa 35 nolo milano skate park hamburgeria negozio di vestiti e studio di musica ok zona nolo viaggia cosa 35 ci trovate qui ciao ciao io sono el gasi questo è il podcast di el gasi qui come regia c'è chris il mio peruviano preferito il mio peruano preferito come stai chris tutto a posto la nostra la nostra mega regia tra un po chris arriverà il computer e ritorneremo a fare le live però la più bella di prima le live cazzo in 60 fps zero lag zero lag stiamo stiamo provvedendo a tutto qui come oggi come ospite c'è fotis kuzukos oggi stato ciao a tutti ciao ragazzi tutto bene tutto a posto sei arrivato in preciso orario in preciso grazie grazie mille per l'invito sono molto piacere di essere qui stare qua con voi si è un piacerone nostro perché chris non so se lo sai chris ma lui è una una testa pazzesca perché è un ingegnere giusto tu sei un ingegnere raccontaci un po di quello che quello che sei da dove vieni io sono venuto quasi tre anni fa si qua a milano per studiare da dove da dove sei venuto da grecia dalla grecia ok da tenne stavo lavorando stavo facendo il consulente di informatica per dieci anni io ho capito che non mi esprime così tanto questo lavoro e avevo sempre una passione per la musica e capire come il suono cos'è il suono perché è molto fisico entra nei nostri orecchi cambia cambia la nostra come si chiama la diatesi si dice in greco diatesi è la il sentimento diatesi ma mi sembra di aver già già sentito una cosa del genere perché abbiamo tante parole dal greco sì alcune diatesi figo figo sì ero molto curioso e ho fatto ingegneria di musica qua al politecnico sì era un bel viaggio di tre anni sì e adesso appena sono appena laureato ti sei laureato appena appena proprio appena appena ieri praticamente giusto due giorni fa grande cazzo quindi sei un ingegnero ingegnere della musica di musica di musica si dice così di suono ingegnere del suono ma in cosa consiste l'ingegnere del suono cioè cosa io sono completamente ignorante in realtà ci sono studi per esempio come come i computers come intelligenza artificiale percepisce il suono tipo quando parliamo al telefono e facciamo ordini a siri come si capisce chi parla chi dà l'ordine se se io dico ei siri al tuo telefono probabilmente non risponde perché capisci che io non sono io non sono io tu però se lo dico io ei siri nemmeno a me ecco perché se forse sono un po almeno posso trovare un lavoro al futuro sono ancora problemi se si è un ingegneria in realtà che si tratta di odio è come come le macchine perché percepiscono il suono e ci sono tanti tanti problemi tipo anche in realtà ci sono come ci sono ci sono direzioni tipo music information retrieval capire estrarre informazioni da un pezzo di suono tipo dove registrato se siamo in un parco pure in l'ambiente dove registrato ma anche se un suono tipo il ritmo il genere chi suona si estrarre informazioni musicali diciamo teoria musicale e poi c'è la parte di ai come generare musica usando algoritmi che secondo me molto figo perché quando c'è il blocco creativo puoi dare ti si può dare un mano una marina che perché siamo in epoca di di big data se la macchina ha sentito tutta la musica che ne so di del tuo preferito artista può darti una continuare la tua improvvisazione in modo che dici wow potrei 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 usare questa idea sì quindi per dirla così e così magari io lo sto capendo ma che tutto tutti possono capire è una figura come la tua che ad esempio creato il il come si dice quella cosa della voce chris è il quello della tonalità che usano i rapper come si chiama autotune questa parte questa parte sound engineering sound engineering si è proprio sound engineering come fare filtri per suoni noi usiamo più di più la intelligenza artificiale modelli di signal processing per risolvere problemi come noise cancelling tipo riduzione di rumore tra l'altro è una sono tecnologie nuove cioè sono cose la tecnologia si questa qua funziona i sistemi provano a provano a risolvere questi problemi di riduzione di rumore 30 anni da 30 anni fa però adesso adesso che c'è la tecnologia con gpu ai deep learning e tutti questi modelli possono risolvere possono trovare nuove soluzioni sperimentare con le potenze che hanno le potenze che hanno queste macchine ma io intendo nuove nel senso che stanno arrivando al pubblico adesso cioè stanno arrivando al mainstream in realtà ci sono già qua ci sono tipo sul tuo telefono adesso per esempio i nuovi telefoni di di apple per esempio avranno un processore proprio per eseguire modelli di machine learning tipo sono adatti per essere veloci perché di solito ai dovrebbe essere veloce per essere reale se quando per esempio scatti una foto se hai visto il quadrato se il quadrato che riconosce che è una persona dovrebbe essere molto molto veloce c'è ovunque c'è su netflix c'è su spotify che ti faranno le playlist a secondo di quello che ascolti come come viene applicato in netflix e ti da un in realtà gli algoritmi funzionano per per migliorare la continuità di guardare film su netflix di essere sempre la user experience quindi ti danno quello che tu vuoi vedere secondo i tuoi dati i tuoi like i tuoi amici c'è sempre un una diciamo un insieme di dati che le usano per trovare patterns trovare patterns così tu sei sempre là e continui a consumare anche su spotify su youtube su qualsiasi ma perché l'obiettivo di queste grandi aziende di tecnologia o social o streaming il loro obiettivo principale è tenerci incollati perché secondo te cominciamo che guadagnano prima così c'è sempre una domanda di exploration e exploitation si chiama tipo esplorare per trovare nuovi film oppure nuova musica che tu forse mai non ha mai ascoltato tipo se io arrivo qua ti dico guarda questo pezzo di dal grezzo bellissimo questo ma questa banda scuola però forse se netflix lo fa o spotify forse dici tu non mi piace strano e quitto e vado su youtube cioè la prima roba è di consumare di più per guadagnare di più ma potrebbe essere un po' ingiusto questa questo modo nel senso c'è loro si bastano su quante persone ascoltano ad esempio un determinato brano e se non fa gli ascolti l'algoritmo magari smette di proporlo quando in realtà potrebbe essere una cosa valida per altri i amici quelli che sei collegato su facebook o su instagram sempre c'è la comunità la usano e forse alcune volte perché la gente di solito quando usa un'application come spotify o netflix non fa ratings tipo alla fine quando tu ascolti una canzone non fai sempre like certo però se ascolti significa che ti piace adesso è se lo ascoltano i tuoi amici dicono ok forse piace anche a te è molto più facile di ricomendare fare le comandazioni perché la probabilità che i tuoi amici ascoltano una musica e la consiglio che te è il fatto che piace anche tempo e può essere molto alto se non devono fare like non devono fare se vedono se l'algoritmo vede che tu sei sempre ascolti questa musica questo significa che ti piace però questo è un problema che mi piace parlare di questo si chiama filter bubble tipo una bolla una bolla che ti sempre ti consiglia ti esclude da altre cose ti esclude da ti tiene sempre dentro questa bolla ok cioè se tu sei per esempio hai un'opinione per esempio un novax se tutti tutte le notizie che arrivano a te tramite facebook oppure tramite su bbc se vai su un sito web tu hai una pagina diversa di me se io mi piace che ne so nba io vedo tutte le notizie sul sport se uno ti piace se uno gli piace si calci oppure politica vede questo per essere consumare di più però il problema è che arriviamo al momento che dobbiamo fare discussioni politiche economiche robe serie noi anche su questa questa materia che è molto molto seria tipo che succede nel mondo io guardo solo opinioni che sono vicini a me per continuare a che sono a mio favore è sempre la questione di dare la dopamina a me che sto guardando così io continuo se io ricevo una una reazione contraria è probabile che ho un rifiuto verso quella cosa cioè la la tecnologia c'è già la però non significa che aiuta sempre per informarsi per farti era avere esatto cioè dobbiamo sapere come usarla perché google internet alla potenza infinita se vuoi studiare per esempio fare una laurea magistrale di ingegneria adesso su musica forse si può trovare anche le classe di di harvard online per esempio se hai la curiosità cazzo devi avere la curiosità altrimenti se sei lasciato libero quello che arriva sono sono video di cani e gattini è molto interessante questa cosa quindi questo suggerire cose solo cose che piacciono a te perché ormai l'algoritmo ci conosce ad esempio su un twitter o facebook l'algoritmo ci conosce quindi ci suggerisce solo cose che piacciono a noi questo ci limita tu mi stai dicendo che ci limita esatto è giusto e anche questo è un problema che Elon Musk dice per twitter ok twitter ha polarizzato l'america in due spaccata in due c'è due fazioni politiche segnate proprio da questa cosa ma sapete io non so probabilmente tu lo sai ma la cosa crisi che è uscita adesso è che dopo l'acquisizione adesso parliamo anche di questo visto che è uscito l'acquisizione di twitter da parte di Elon Musk ha portato ad avere da alcune persone che erano tendenzialmente di destra o più conservatrici ad avere più follower c'è l'acquisto secondo te perché è successo questo perché Elon Musk dice che voleva vuole fare twitter tipo open source tipo essere totalmente libero che io sono d'accordo condividi condividi il codice così se ci sono i bot che fanno tweets per cambiare l'opinione della gente si può anche anch'io per esempio che sono un ingegnere non può studiare il codice dire guardate qua c'è un bug c'è un problema risolto perché è open source questo questo è figo però nessuno crede più Elon Musk perché è un razzista in realtà ha fatto tante tanti scandali ha fatto delle uscite poche buone sì sì lui viene da africa sud south africa da una famiglia che ovviamente non c'era una famiglia era una famiglia di ricchi di upper hide non è così diciamo il ragazzo più giusto nel mondo è una potenza infinita è in realtà twitter è così alla potenza che questo dà paura a gente perché se uno controlla le notizie che arrivano ai nostri feedback in al telefono si può controllare l'opinione del mondo ma è quello che veniva perché adesso io non sono con il lo masca a me piace lo masca solo per il fatto che crea macchine bellissime e lancia razzi con macchine con macchine dentro però c'è da dire che questo questa scelta della libertà che sta portando a twitter è perché twitter aveva un problema cioè era completamente chiuso dentro una bolla cioè alcune persone non erano verificate anche se avevano la possibilità di farlo questo perché veniva fatto perché veniva scelta una classe politica quanto per quanto ne so io ma anche se fai su google che cerchi in quale in quale paesi è aperto twitter tipo totalmente aperto in america per esempio trump era diceva che twitter è controllato da da fuori che c'erano da ragazzi che non vogliono la libertà di america cina l'ha tolto tipo non si può entrare anche anche google non si può entrare anche su youtube russia no cioè le tre le tre potenze del mondo più i tre paesi più più forti nel mondo che controllano l'economia se l'energia adesso che lo vediamo con la guerra in ucraina hanno controlli su twitter cioè capisci la potenza di questo software è in realtà nel nel mondo la diciamo che la politica controlla la i medi però è l'opposto perché vedi che è un medium come twitter diventa quello che tutti vogliono comprare come c'è un ragazzo con velon mask cioè sempre c'è una tecnologia che è molto molto bella però tutti lo vogliono sotto controllo perché perché la potenza che e secondo te non potrebbe portare questa 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 sensazione di libertà dentro twitter aprendo i codici perché lui ha questa idea no ma ma è un un uomo brillante tipo idee pazzesche io lo seguo e mi piace mi piace guardare cosa ha da dire al mondo per esempio lui ha detto su twitter i accounts più seguiti sono di justin bieber che non ha senso di katie perry si è di dell'ex dell'ex presidente di america barack obama ok che non non fanno niente più sì esatto non sono attivi cioè c'è un problema con twitter veramente lui è lui è molto molto come persona quasi illuminante diciamo però non ci credono la gente non ci crede a elon musk non so se hai visto anche sui video su youtube con la giuri tramite johnny depp e la sua ex come si chiama anche lei aveva una relazione tra elon musk con elon musk è sempre un po controverso è un po controverso però lui lui secondo me è tutto marketing cioè più che altro si è molto fa molto marketing anche il fatto che abbia comprato twitter è un è anche un investimento non solo per mandare un messaggio al mondo che forse c'è qualcosa che non va in questi big data o questi questi software super controllati attraverso l'intelligenza artificiale tu lo sai spiegare molto meglio di me e lui forse sta mostrando che se io apro i codici voi dopo non mi potete dire che io sto facendo qualcosa di vuole vuole trasparenza no e questa è una cosa buona è una cosa buona se sono d'accordo speriamo che succederà così non so melon musk ok noi andiamo stiamo parlando per elon musk però ricordi che è due tre mesi fa c'era un discorso se potremo eliminare la povertà la fame se al mondo lui ha questo quando costerà quando è la monto che dobbiamo trovare però se uno di noi ha questa capacità sarebbe la prima secondo me la gente dovrebbe essere la prima domanda di fare non è che dobbiamo aspettare united nations di fare però però lo sai che cosa è successo perché io ho ricercato non so se hai seguito questa cosa lui ha detto datemi ogni spesa che si farà per ad ogni paese no quindi mi dici mi dai una lista di ogni spesa che si farà per togliere la fame del mondo quindi mi dai mi dai la lista e io pago lui ha detto io pago è un pazzo e questo aiuterebbe speriamo non ha pagato ancora no no ma perché perché questo perché lui ha parlato con l'onu e l'onu ha detto non ha risposto o non ha dato informazioni quindi è quello che ti sto dicendo io è un pazzo e lui sa che c'è una debolezza nel sistema perché dice perché non risolviamo la fame lo pago io però datemi una lista di dove verranno spesi i soldi e non hanno dato se c'era da guadagnare sono sicuro che tutti gli ingegneri tutti gli analisti che l'hanno l'avevano fatto tra un mese e l'avevano trovato però non è un problema che vogliono risolvere questa sarebbe una grande strategia di marketing l'uomo che ha finito con la fame nel mondo perché basterebbero cazzo quei 42 43 miliardi che ha pagato per comprare twitter li potrebbe tranquillamente spendere per risolvere la fame nel mondo però secondo me non è interessante risolvere la fame nel mondo tu che dici secondo me sicuramente no perché questo è un discorso di capitalismo in genere tipo se noi per esempio che siamo qua in italia è un paese del global north diciamo quelli che sono i paesi che hanno una qualità di vita buona e alta noi usiamo per esempio i telefoni i pantaloni i microfoni che sono fatti in baglantese nel global south tipo noi usufruiamo gli oggetti le comodità però se fosse il nostro problema di di essere pagati con un stipendio di 3 dollari o 10 dollari sarebbe una rivoluzione in italia no però così cioè il capitalismo per il capitalismo serve avere povertà serve avere paesi con problemi e tutti tutte le aziende che diciamo che portano nuovi nuovi prodotti di eia con ei ai belli tipo api per esempio oppure google oppure che ne so tutte le aziende che sono nel top places to work per un ragazzo che fuori università vuole lavorare fa sogni sono hanno tutti come si chiama factories come si chiama factories in italiano fattorie fattorie di fabbriche fabbriche fattorie 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 hanno fabbriche hanno fabbriche in questi paesi tutti i paesi del terzo mondo sì esatto bisogna dire anche cioè non siamo del tutto dissonati secondo me sia vero che il capitalismo ha bisogno comunque di povertà ma questo perché i paesi che permettono che le aziende vengono a lavorare con così mano d'opera bassa cioè sono proprio i paesi corrotti cioè devono risolvere anche loro i loro problemi sì ma anche tu non puoi arrivare e dici senti questo è un grande discorso perché questi questi ma questi paesi diciamo che sono corrotti come un paese africano per esempio ma africa ha la la ricchezza del mondo tipo hanno diamanti oro argento hanno tutto e tutto era estratto dal loro paese dal colonialismo cioè è un discorso enorme tipo paesi piccoli come portogallo come belgio come belgio si netherland e l'assign interna hanno controllato tutto il mondo e hanno estrado tutti i sorgenti di questi paesi e continuo continuano a soffrire i sorgenti che hanno sì sì cioè questa è una situazione che aiuta se io sono inghilterra per esempio mi avrei avere india che è un paese enorme e usarlo fino a cento anni fa per installare tutta l'economia controllare tutto è un secondo paese sì secondo me ignoriamo un fattore molto importante che ho sentito non è una mia idea non ho prodotto io questa idea ma effettivamente è vera se tu ci pensi noi non siamo ma non abbiamo mai razionalizzato che possiamo essere diversi dagli animali e comunque continuiamo a comportarci allo stesso modo cioè il più grande il più forte vince sul più debole continuiamo a fare la stessa cosa e non abbiamo mai smesso di fare pur creando razzi pur creando ideologie filosofie continuiamo a farne purtroppo per tornare all'inizio del discorso i algoritmi che la tecnologia che forse ci dà questa opportunità di essere trasparenti senza avere più tipo decisioni che sono fatti in una stanza con tre politiche ma tutti possiamo per esempio votare perché non votiamo potremmo votare digitalmente tipo online però no nessuno paese non lo fa e tipo io posso pagare tutte le mie spese online cioè la mia banca fide questa transazione online però lo stato come tram dice no succederà un che ne so fanno un hacking è il risultato dei voti non sarà affidabile cioè preferiscono avere un processo di votare che non è online perché così la gente che è la gioventù dice non vado a votare non ha senso è difficile escludi gentile sì 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 esatto ma gli algoritmi quello che volevo dire che gli algoritmi hanno la capacità di risolvere questi problemi dare trasparezza anche sui risultati dei voti e dare dare voce alla gente che non l'ha per esempio che l'ha fatto su youtube per esempio la generazione di 2000 quelli che sono nati a 2000 non guardano tv più cioè non sono controllati da rai da le notizie della media se io voglio ascoltare il gasi per esempio vado su youtube e ascolto questa conversazione diciamo quello che vogliamo dire non è che siamo controllati e questo è molto 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 bello democratizzazione del consumo visivo cioè tu ti scegli cosa vuoi guardare non subisci più come una volta sì sì però se guardavi la tv era quello la programmazione era quella ma anche la musica anche la musica tipo io ricordo che se non c'era su mtv esatto non era una trend adesso ci sono anche questo che succede con gli artisti per esempio tutti vogliono vogliono fare la loro stessa come si chiama etichetta e tanti tanti artisti non sono più a universal a spotify c'è banca adesso con i nfts per esempio tutti gli artisti possono avere i loro diritti e fanno il management del loro diritto da solito cioè quelli che dicono apriamo i dati i dati per tutti apriamo i microfoni le camere così sappiamo che succede però purtroppo quelli che controllano gli algoritmi li usano non per unirsi ma per separarsi in categorie questo è anche un discorso di di statistica che mi piace molto affrontare si affrontare perché la statistica è come si chiama il martello del nostra epoca del capitalismo tipo siamo noi tre qua facciamo una statistica dei nostri redditi e diciamo qual è la normalità e quale l'outlier quale fuori la normalità però la gente non è così tipo la statistica aiuta capitalismo per dire chi chi guadagna oppure chi prende il long con chi prende il prestito dal banca chi prende l'assicurazione e tu forse fai una domanda alla banca e gli dicono no perché c'è un algoritmo che dice che tu non sei certo nella norma non fai parte della norma cioè no tu non hai le stesse opportunità beh continuiamo usiamo usiamo la tecnologia per farlo però siamo sempre lì c'è il più forte continua a vincere sul più debole i più forti usano la tecnologia algoritmi e social per farlo e dobbiamo andare verso un'altra via perché se noi pensiamo al capitalismo no come struttura funziona ma non è la cosa migliore ma se noi guardiamo l'altra opzione è totalmente da ignorare perché non possiamo il comunismo oddio cioè sai qual è il problema è orribile il problema non è il capitalismo secondo ok si io capisco si è la cosa migliore che abbiamo visto che non c'è un'altra termina problema è che invece di parlare di queste cose fare discorsi leggere libri guardare films invece noi guardiamo gatti e cani questo è il problema questi problemi i problemi ci sono il capitalismo non è diciamo il perfetto sistema e nuove generazioni devono trovare una risoluzione devono trovare un nuovo sistema anche tra l'arco capitalismo tutto deve cambiare ok il mondo va avanti però come va avanti solo se sono una come si chiama dieci persone in una stanza che decidono oppure se tutto il mondo è attivo e parla e secondo me questo è un messaggio per i giovani per essere più attivi parlare non dire che il capitalismo è il cattivo il comunismo è il bravo che risolve tutto no parliamo troviamo una soluzione forse in dieci anni però solo se discutiamo questi problemi e se studiamo e se studiamo come funzionano gli algoritmi e come usiamo i nostri dati è così come usano i nostri ma anche noi usiamo noi possiamo provvedere anche dati comunque che secondo te non siano rilevanti per questi piattaformi nel senso mai lasciare tracce queste cose qua che ne so piuttosto di fare una profilizzazione su su facebook quando ti fai l'account piuttosto di mettere cosa ti piace cosa non ti piace non metti nienti e consumi quello che cerchi te basta sono metodi sono forme ma lui lui secondo me quello che intendeva lui è smettiamo di guardare i cani e i gattini e iniziamo a usare internet per informarci ma smettete di fare tik tok e balletti del cazzo e sa formatevi esatto tipo la potenza che hanno questi per esempio io sono in grecia e io potrei trovare un ragazzo che può insegnarvi che ne so matematica oppure parliamo di quel problema che ho nel mio lavoro da cina oppure da india o qualsiasi modo oppure potremmo avere una comunità su reddit che discutiamo un problema che è globale questo è questa tipo cento anni fa per fare un meeting non era possibile adesso posso stare un'isola tu e lavorare e lavorare bellissimo 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 non è non è che dobbiamo dire che la tecnologia è cattiva tiktok è cattivo no io per esempio su instagram possa collegarmi con amici che non ho visto che sono in grecia che mi mancano facciamo chiamate video eccetera eccetera non è che non voglio smettere usarlo certo però non voglio fare più follow queste non voglio usarlo come come instagram vuole usare è interessante ma parlando di algoritmi si parla di chi è che parla di etica degli algoritmi cioè perché si parla di etica degli algoritmi ha a che fare con quello che abbiamo detto sì 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 la parte di etica è che c'erano per esempio tatti che da tanti tanti tanta gente che diceva che twitter sarà una rivoluzione una rivoluzione di libertà di esprimere la sua opinione cioè è giusto è così però se diciamo come come arrivano i tweets al mio account cosa io vedo cioè dovrebbe essere una dovrebbe essere una chiarezza come come sono fatti questi algoritmi se se c'è bisogno un scopo per esempio un un scopo politico e questo secondo me è molto molto bello come discorso perché abbiamo visto scandali per esempio con gli algoritmi uno scandalo che ricordo era quello di cambridge che misa da liti di chemis analitica esatto esatto che vedi un'azienda come facebook per esempio come può cambiare le elezioni di un che cosa era successo lì in chemis analitica la questa questa non voglio parlare di questo di questo tema perché non sono così informato che misa ricordo 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 che aveva aveva cambiato aveva cambiato i risultati delle elezioni delle elezioni però non voglio essere specifico è solo tipo cambridge analitica è un esempio della potenza che hanno questi questi algoritmi per esempio un altro era di quello di uber non lo sapevo di uber quello era molto molto interessante si chiama si chiama grey ball perché se tu apri la schermo di uber c'è una palla che ci sono la mappa con i tassisti con i con le macchine che puoi noleggiare grey ball che si chiamava grey ball perché se uno faceva parte dello stato del controllo perché sai che uber per esempio non è accesso su tutti i paesi e non è accettabile per i paesi perché ci sono i unioni di operai tassisti eccetera eccetera però uber voleva continuare a usufruire di della gente che sono in questi paesi e cosa hanno fatto se io facevo fa facevo parte dello stato tipo però un controllo facevo controllo per esempio se c'è un uber in questa zona il mio telefono non era un grey una palla grigia che non potevo trovare una macchina perché usavano il telefono usavano i miei dati usavano il mia la mia sim usavano tutti i dati dell'utente avevano una data base con chi sono i quelli che lavorano per lo stato e fanno controllo e potevano dare multe per esempio fare fare problemi a uber e gli danno una diversa interfaccia che si chiamava e questo era sui new york times sì ma anche in italia mi sa che uber non esiste quello normale si esiste solo il uber black si 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 è così per esempio anche volkswagen aveva fatto un scandalo enorme con con le macchine le emissioni di carboni di carbo come si chiama carbo l'emissioni co2 si no però era legato al nitro o qualcosa del genere raggio i volkswagen come macchine erano molto impotente no erano si erano molto potente con una macchina piccola il motore era piccolo tipo di solito in america usano i motori di 2.000 3.000 cc però quelli golf erano molto molto potenti e veloci e avevano piccoli motori però gli emissioni erano enormi però loro dicevano che le emissioni avevano fatto avevano installato un software e quando la macchina era al controllo di emissioni il team come si chiama il timone il volante il volante era dritto e i rpms della ma del del motore erano a 2.000 cioè il software capisce che sono stop sono sotto controllo adesso e cambiava il cpu il come si chiama il software del del motore per cambiare emissioni diventa più debole solo sotto controllo wow cioè quindi quando quando stai guidando stai guidando è normale è normale è normale è veloce però ad un certo punto era 40 volte di più dal limite in realtà era un scandalo che mi sa che cinque persone tipo cio cio tutti tutti i heads erano era una conoscenza no no era una conoscenza ovviamente hanno erano lasciati dal lavoro erano si sono licenziati licenziati ma ci sono anche secondo me continua a fare giurisdizioni come si chiamano problemi con la giuristizia eccetera eccetera e quindi c'è ignoti ti ti mentiva cioè ti diceva che non stava inquinando però purtroppo questo è un esempio per dire che questi sono scandali che noi sappiamo perché forse ingegneri non erano così capaci a nasconderle ok si può capire che quando il capitalismo diciamo il nostro la nostra vita è abbassato su regole che tutti le rispettano tipo sì questo è un prezzo giusto questo e non è un scam i dati che usano per esempio su youtube su instagram oppure sul mio telefono quando fai una foto questi sono i dati che io salvo per esempio non uso altre informazioni se non lo se queste aziende per esempio hanno software che fanno tutte le queste robe sotto sotto i nostri sotto le nostre orecchie capisci che non c'è più senso di avere il market non funziona così sì sì non c'è più fiducia è disonesto e disonesto non c'è più fiducia per esempio sì e nel caso di volkswagen era un aveva a che fare con degli algoritmi aveva a che fare con del software sì 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 perché il software è molto più facile da nascondere sì esatto è così gli algoritmi diventano più complessi e io sono molto d'accordo dell'idea di open source dovrebbe essere ok se potrebbe essere open source ma anche i giovani usano i computers così tipo per dividere musica per dividere film hanno creati comunità su reddit hanno arrivato posti per non essere per essere scatenati diciamo dalle catene di degli algoritmi si 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 hanno hanno creato ho capito hanno creato dei sistemi per svincolarsi dagli algoritmi che incredibile cioè i governi stanno scoprendo che non riescono cioè non riuscivano più a controllarci tramite i media normali e sono passati a ai media ai nuovi social comunque ecco e questi discorsi sono molto molto interessanti perché secondo me c'è c'è la gente e le nuove generazioni devono sapere che c'è la capacità di cambiare il mondo però devono sapere come questi algoritmi lavorano può essere sempre quando danno i dati consenti non è così allow cookies allow per tutto ma facciamo scattiamo facciamo un video e basta dai consensi a tutto non deve essere così c'è uno se ok sta diventando più difficile perché se uno diceva diceva prima ok io non guardo la televisione perché non voglio essere manipolato diventa facile la cosa basta che non l'accendi la togli dalla spina e è finito però questo qua ce lo portiamo dietro lo portiamo dovunque ci sta ascoltando al microfono aperto si è aperto non è non è pazzesco che se dicevi cento anni fa per esempio a una persona volevi un gps che controlla sempre dove sei la tua location e i tuoi dati per guardare video di casa per esempio dai il consenso sì o no la gente diceva di no sì però noi noi mangiamo questo formaggio diciamo come una come si fanno ai mausi come si chiama mai topi i topi c'è un formaggio c'è una lasca si noi diciamo che io mi piace ascoltare musica e per ascoltare musica io do tutti i miei dati esatto per fare una foto con i miei amici è sì è così è così cioè praticamente oggi diventa molto più difficile svincolarsi da sta cosa qui perché io ci siamo tutti dentro perché alla fine se tu usi instagram lo devi usare in una maniera più cosciente però sai che comunque ti dà piacere guardare quello che piace a te ascoltare quello che piace a te e diventa sempre più difficile svincolarsi da questa cosa qui sì sì però serve una forza un personale diciamo una sfida personale per 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 guidare le notizie che ti piacciono per essere educato sì educato nel vero senso della parola cioè avere educazione sì ma educazione nel mondo di tu sei quello che vuoi ascoltare non sei un oggetto dell'algoritmo sì però sì io dico che la gente dovrebbe sapere queste robe e usare la tecnologia sempre usarla però come vogliono loro è perché su su netflix ad esempio quando tu stai cercando c'è un pulsante per dire riproducimi qualcosa di casuale cioè riproducimi qualcosa che hai deciso tu per me questo è il simbolo per me della indecisione delle persone della delle come si può dire della debolezza delle persone perché alcune persone semplicemente si siedono davanti a netflix e dicono ok decidi tu per me sì sì consumare film se consumare musica che secondo me è molto molto importante perché i film se la musica ti danno ti danno anche una sensazione di cosa è bello se diciamo come il mondo tipo se tu per esempio la gioventù che guarda i video su pornhub quando hanno che ne so 16 anni come percepiscono l'amore come percepiscono la sessualità la sessualità tipo tutto quello che consumiamo sono immagini e suoni entrano nella mia mercedere la nostra mente dovrebbe essere dovrebbe essere la nostra scelta non di degli algoritmi è solo per consumare di più è molto molto importante secondo me di stare con le persone giuste amici e ascoltare guardare i film e la musica che ti danno i consigli perché tu vuoi fare parte di questa gruppo di questo gruppo sociale non di un algoritmo che tu continua a fare click la vedo molto dura ecco perché ci sono ecco perché ci sono anche nuovi c'è gente con bellissime idee per esempio un movie ah sì sì bello e adesso è diventato famoso c'è un gruppo di persone che sceglie personalmente che sceglie films basati su temi cioè hanno trovato un gap chiaro di questi algoritmi oppure ho visto tinder per che ne so tinder per quelli che ascoltano questa musica cioè sai che almeno se tu trovi un match avete la stessa lo stesso gusto lo stesso gusto ci sono i buchi per i gaps per per sfruttare per cambiare per sfruttare bene la cosa sfruttare per sfruttare bene sì sì no quello sicuramente perché una delle cose che ad esempio a me ha fatto la differenza con internet è che io non sono andato all'università è una delle cose che ho imparato il lavoro eccetera ho imparato tante cose solo tramite internet è bellissimo cioè youtube è stato il mio la mia università per tanta 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 gente sì tantissima e forse forse è meglio perché tu non hai pagato per una scuola che ti dice cosa devi fare la norma e tu hai fatto quello che vuoi no però il potenziale che quello che dicevi tu del diciamo il lato buono della tecnologia e di internet è che puoi lavorare da fuori puoi oggi veramente puoi fare le università online e avere concorsera ad esempio puoi avere corsi super professionali cioè anche del di oxford ma secondo me secondo me secondo me il più importante è collegarsi in collegarsi da tutta da tutti i posti del mondo e trovare persone che abbiamo le stesse passioni e discutere di questo e non perché la gente alcune volte sente da solo cioè questo problema di depressione che io non so con chi parlo guardo film da solo su youtube però con internet puoi trovare un amico in qualsiasi mondo e trovare la tua passione e continuare eh quello quello è bello magari aiuta tante persone che non hanno non hanno avuto questa questa cosa di essere sociali tanto sociali e magari uscire trovare un amico magari tramite internet e tramite una potenza incredibile è giusto è giusto è così ma è così bello bello e invece le cripto e l'intelligenza artificiale hanno qualcosa in incorrelato? c'è sì è la potenza della macchina di fare transazioni che sono diciamo decentralized da una banca decentralizzata decentralizzata sì e ovviamente la potenza che hanno i cpu, le macchine, i computer si è aiutato per creare questo tipo di economia però il problema è che se uno ancora se uno ha tanti tanti soldi è come una balena diciamo in una come si chiama? una balena in un lake? come si chiama? in un lago sì e la balena può cambiare anche il livello del dell'acqua sì tipo se tu hai e così potrebbe essere decentralizzato però ancora se uno ha tanti tanti soldi eh si può anche controllare il market e lo sai che gli algoritmi per esempio fanno anche stock exchange fanno cambiamenti automaticamente io dico una strategia il mio algoritmo e questo bot fa stock exchange e lo fa velocemente questo può cambiare anche che ne so i soldi della mia banca può cambiare anche chi è ricco no? e molto più velocemente molto più velocemente sì ma mi sa che il stock exchange a Londra è costruito vicinissimo al centro delle comunicazioni di Inghilterra per avere 5G dieci anni fa per avere per avere la velocità dell'internet più veloce perché se hai anche 3ms più veloce e sai il prezzo di un stock puoi comprarlo prima madonna cioè la tecnologia controlla anche il prezzo dei mercati in realtà è la nostra vita è incredibile perché quello che sto capendo è che stiamo c'era un punto in cui noi come esseri umani ci siamo guardati e abbiamo detto abbiamo troppo il piede sull'acceleratore il mondo non può reggere questa cosa qui e noi abbiamo ancora schiacciato ancora di più il piede sull'acceleratore stiamo dicendo vogliamo tutto ancora più veloce vogliamo tutto e non c'è tra un po' ci sarà un collasso perché tutto quello che cresce così in fretta alla tendenza di sì ma anche la sensazione che la sensazione che stiamo tipo siamo molto molto vicini nel senso che non posso respirare sì in questa città e poi diciamo che siamo da soli è stranissimo è stranissimo non c'è nessuno che è vicino a me però tutti sono collegati a me e cosa vogliono da me e così questa sensazione è molto molto strana che abbiamo in questi mondi e in questo mondo è sì però secondo me è questa la domanda come come usufruire la tecnologia per essere più felici come usufruire e aumentare la tua conoscenza sì ed essere una persona informata perché forse riassumendo un po' quello che stiamo dicendo no se tu sei una persona informata sei una persona che cerca di scoprire che cosa ti sta succedendo intorno a te o dentro questi cosi eviti di di mandare tutto in rovine perché potresti se fai in automatico a guardare solo video di gattini cani ma e dare player shuffle di netflix io ricordo io ho 36 anni e cioè ricordo quando avevo a 10 anni non c'era internet per esempio e per ascoltare una musica avevamo le cassette quelle di magnet tape e dovevamo cercare da dove la troviamo se hai una canzone io devo fare ricordi incoppiare dobbiamo pagare per un canzone per trovare un video era così difficile e adesso che c'è tutta questa informazione che arriva arriva non sappiamo come gestirla come gestirla e alla fine guardiamo verde riassumendo per esempio ricordo andavamo a una casa di un amico solo per vedere un film oppure che lui aveva computer oppure lui aveva il dvd il dvd si è solo lui ce l'aveva e tutta quella adesso è diciamo è già fatta la gente pensa che tutto è pronto nessuno ha lavorato il mondo è nato così con internet con tutta la informazione cioè abbiamo avuto tutto il il comfort che volevamo e non siamo ancora soddisfatti si è incredibile questa cosa no? perché se tu pensi cavolo tanto tempo fa quando avremo oh immagina di avere dei telefoni che puoi portare in giro oh sir è vero che figo creiamolo e lì saremo felici e invece no ti volevi chiedere la tua ragazza e dovevi parlare con la sua mamma eh sì posso parlare con sì sì posso parlare sì è interessante interessante come esseri umani siamo siamo delle persone curiosi cioè siamo un pozzo senza fine perché abbiamo tutto eppure eppure siamo ci sono più tassi di depressione o cioè dalla fine diventa una questione di sapere come vivere sì ah è vero sì cioè poi qualsiasi cosa sia la tecnologia che altre cose diventa un modo per dire ok e adesso come vivo visto che ho tutto sì esatto ma se lo pensi per esempio io adesso che abito qua che sono a Milano per un ragazzo non so da Africa sono ricco sì e io torno a casa e forse ci penso non posso dormire perché dico oddio cosa farò domani sono povero come pago per il mio nuovo telefono l'affitto l'affitto sì cioè è un è un discorso di percepione percepità percezione percezione sì io ho sentito un a me piace un po' andare a ascoltare un po' tutte le religioni tutte le filosofie perché è molto interessante antropologia sì è bellissimo e sentivo questo rabino ebreo rabino può essere un rabino e lui diceva che la tecnologia la religione non deve rifiutare la tecnologia non deve rifiutare tutto quello che abbiamo e la questa abbondanza perché sarà questa abbondanza tipo se ci pensino i robot i robot ci rubiranno il lavoro no i robot la tecnologia tutte le automatizzazioni verranno per far farci capire una cosa che noi dobbiamo fare solo una cosa e non tutte le lavori eccetera noi dobbiamo fare una cosa essere umani giusto però dobbiamo anche pensare che i robot per esempio oppure i migranti io lo faccio più se faccio la domanda un po' il discorso un po' più ampio che arrivano in un paese che dicono ah i migranti ci rubano il lavoro oppure questo robot ci ruba il lavoro è vero è vero è vero che si mira è vero perché il costo di lavoro è molto più basso cioè il boss il nostro amico che noi pensiamo che abbiamo votare per questo oppure il nostro capo lui dice che io non voglio pagare così tanto per te e preferisco un immigrante o preferisco un robot cioè il problema è che il nostro boss non vuole pagarci e preferisce pagare un robot di meno o qualsiasi lo capisco perché è così il capitalismo è così però noi abbiamo problemi con i robot i migranti o qualsiasi problemi che non è questo il problema il problema è di abbassare il costo cioè anch'io preferisco di non guidare per esempio in città preferisco una macchina automatica chi vuole il tassista però lo stato deve capire che anche il tassista è un uomo che ha una famiglia che dovrebbe avere un lavoro era molto più filosofica quello che intendevo io cioè intendevo che ci prenderà il lavoro e lì ci accorgeremo che aspetta ma non era quello il mio compito nella vita cioè nella mia vita il mio obiettivo era un altro cioè perché sono qua esatto arriveremo a pensare a questo poi è chiaro mi devo trovare una mansione sì 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 è giusto però arriverà a farci capire che non dobbiamo lavorare la terra per forza e questo è il senso della nostra vita ma non è sì ma anche lavorare la terra vedi che questo è un discorso che mi piace fare sì in nostro mondo la gente che fa lavori che ne so come studiano a Harvard vanno sono i capitalisti sai tipo comprano le macchine fanno dieci ore all'ufficio dodici lavorano anche durante la notte prendono anche drugs se sono droghe per continuare a lavorare eccetera eccetera alla fine cosa fanno vanno a fare vacanze con yoga agricoltura tipo studio come respiro si si può farlo così esatto poi come devi fare questo tutto per per tornare a dire mangiamo prodotti biologici tipo perché non mangi prodotti biologici dall'inizio tipo torni a casa sua e mangia prodotti biologici devi diventare ricco fare tutto quello per arrivare una fragola che è fatta dal mio paesino per esempio in Grecia è stranissimo è quella storia è una storia che probabilmente l'hai già sentita riguardo proprio questo che c'era questo tizio che appunto era uscito dall'ufficio e voleva rilassarsi è andato vicino a un lago e ha visto un tizio che pescava si ha visto un tizio che pescava lui voleva rilassarsi ha visto il tizio che pescava siccome lui era un super che lavorava in ufficio ha già pensato se lui prende una barca e prende altri pesci e poi assume un'altra persona lui ha detto senti vieni qua pescatore ma se io ti do un consiglio ma se tu prendi perché l'ha visto che era sdraiato nella barca quindi lui diceva non ha senso questa cosa perché sei sdraiato nella barca devi lavorare lui ha detto senti ma se tu prendi più pesci prendi un altro amico che ti ti aiuta a prendere altri pesci tu puoi guadagnare più soldi e poi e poi tu prendi una barca più grande si 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 prendi una barca più grande con più pescatori esci in alto mare prendi più pesce e lui poi e poi eh prendi pesci puoi vendere apri un mercato del pesce si e poi e poi e lui dice eh lì lì a quel punto quando sei grande hai tre aziende tre case ti puoi rilassare e io ho detto ma che cazzo che cazzo stavo già facendo esatto e cosa lo faccio a fare questo un po' per dire non esagerare cioè c'è un modo per vivere più sano per vivere non mi devo ammazzare così tanto per poi rilassarmi un amico da New York mi diceva per comprare cibo biologico in New York deve essere ricco ricchissimo eh per esempio devi pagare tre quattromila che ne so dollari per mangiare bene devi essere veramente fare anche prontazioni fra fra settimane e arrivano i produzioni di agricoltura che portano un cestino con frutta fresca che tu non hai scelto ovviamente e quello è della produzione del giorno cioè pagano un sacco di soldi per fare una vita che chiunque in campagna che può può esatto lo fa già senza tutto quel comfort oppure io la penso così non so se hai questa idea che oggi è bello tutta questa abbondanza nel mondo per chi sa che come magari io e te ne stiamo parlando sa che basta poco no cioè oggi possiamo avere una casa più grande possiamo avere il cellulare possiamo avere la tv però basta veramente poco per essere felici sì basta poco e dobbiamo pensare cosa vogliamo fare in vita e se tipo se compro una macchina o lavoro per dieci anni per fare alcuni soldi se questi soldi che ho guadagnato possono darmi una felicità che vale dieci anni della mia vita tipo vale questa Mercedes di non avere amici di non avere una fidanzata io lavoravo dieci anni in consulenza e lavoravo in aziende che tipo verso dopo le mezzanotte ogni giorno tipo era orribile era orribile sì e ho deciso di dire no non voglio fare questo ovviamente c'è sempre un trade off tra la bilancia della vita e i soldi che guadagni però devi pensare che anche i soldi che guadagni alla fine ne vale la pena ne vale la pena questa è la domanda interessante perché le persone tendono a vedere questa riflessione sul sul senso della vita quasi lo rifiutano dicono stai lì troppo filoso bisogna lavorare no io lo capisco che la gente ha la gente ha sogni è giusto però dovrebbero essere sogni reali non sogni finti tipo perché diciamo anche della discussione di metaverse mi piace perché noi già siamo già in un metaverse se io per esempio compro una macchina una mercedes faccio finta che io sono figo che sono ricco compro una giacca guzzi entro un club con un'aria che sono qualcosa se però mi porti in una spiaggia e tolgo tutto e parliamo di teatro di storia di matematica che ne so qualsiasi di parliamo di economia siamo la stessa parliamo di una una roba importante quello che studiano la gente in università cosa cosa so cosa cosa posso dare al mondo se sono nudo in realtà non sono nessuno questo è il nostro metaverse si vero è vero cioè se riflettiamo qual è la veramente la nostra ricchezza siamo ricchi in cose ma anche io stavo pensando tipo quando ero più giovane quando vedevo un ragazzo con i vestiti belli firmati direi che bravo avevo con dieci secondi si vede una persona e tra dieci secondi hai già deciso se è bravo se non è fallito se è successo perché vedi che porta la gravata il costume l'orologio è così siamo siamo allenati di pensare così però nella mia vita ho conosciuto gente che all'inizio al primo alla prima vista sembra molto strana perché non fanno parte della normalità però sono persone bellissime che hanno la conoscenza che mi hanno dato la conoscenza che mi hanno cambiato la vita e loro vivevano la vita cioè bisogna vivere la vita e non correre dietro un obiettivo non dico che che un vestito una macchina non è bella a tutti gli piace però se vale se vale avere questa questa macchina ok se ti dà questo contento se sei così contento Chris c'è una persona vicino vicino a noi che non dico il nome però probabilmente la conosci che io ho sentito e mi sono in osto molto perplesso questa persona diceva il mio obiettivo nella vita era arrivare all'american express che ne so gold oh sono felice ci sono arrivato e quando me l'ha detto io ho detto wow era questo il tuo obiettivo nella vita sì sì ma adesso ne ho un altro voglio arrivare quella più alta sì la nera credo di sapere chi e io rimanevo così wow non c'è niente lì non c'è vuoto una vita c'è il film American Psycho madonna che film American Psycho guardi la scena con la la targa la targa la targa il biglietto da visita sì il biglietto da visita che era più figo dagli altri e lui è diventato pazzo erano tutti uguali c'era nella loro testa questo film fissa per cose che chissà chi la vede posso dire una cosa non l'ho mai vista dai è un bel film lo devo vedere lo devo vedere secondo me su Netflix c'è sì 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 lo devo un consiglio su Netflix non mi ricordo fuori algoritmo tu sei come sei messo l'orario sì tra poco ok ok se vuoi se vuoi iniziamo a chiudere la baracca ok allora è stato davvero un piacere sai noi potevamo approfondire su tante cose e quando vuoi davvero anche giovedì prossimo tra un mese tra un anno puoi puoi tornare cioè ci sediamo di nuovo qua e parliamo di come sta andando le analisi degli algoritmi se siamo ancora dentro dentro un mondo reale oppure siamo finiti male nel metaverso siamo in pochi a vivere la vita reale sì certo con felicità volentieri sì è stato è stato davvero perché noi ci siamo ci portati discorsi interessanti sì 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 io a questo podcast è stato molto è è una cosa molto interessante perché mi ha dato la possibilità di conoscere persone davvero fantastiche interessanti come te dobbiamo rimanere in contatto e fissare un'altra puntata perché poi sarà molto bello approfondire su altre cose ti va? sì 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 certo e poi ci aggiorniamo su come va la vita lavorativa visto che ormai sei sì sei un dottore sei un dottore grazie parliamo di un tuo sogno tu mi hai detto che volevi lavorare da Bose era un tuo sogno? forse a Tesla con Elon Musk no in realtà sarebbe figo veramente chi non vuole fare viaggi a Mars piani per fare macchine no a me piace la tecnologia è quello che voglio fare però io vorrei lavorare con io preferirei lavorare con artisti in realtà perché hanno una percezione 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 devo imparare percezione del mondo cioè a me ti piace mi piace sì ma anche un progetto che ho fatto con il duo Inverno Mutto che sono qua in Italia a Milano è il sito che abbiamo visto prima sì è Blackmed è un progetto che è un progetto che è una ricerca in realtà fondata da tanti da Ministero di Cultura Italiana e si tratta di del del viaggio della gente tra Mediterraneo ah ok tipo il scambio delle culture come è successo tra gli anni tipo gli africani che sono arrivati in Italia i turchi che sono arrivati in Spagna i greci in Italia e così è che l'idea Blackmed viene anche dal Black Seek che era la parte che hanno fatto i schiavi d'Africa negli Stati Uniti però hanno portato anche la loro cultura cioè adesso diciamo il termine afroamericanism una cultura africana che hanno portato così questo è un progetto che parla della cultura di Mediterraneo dei popoli di Mediterraneo che hanno scambiato e hanno un insieme di fototesti musica che hanno collegato con tanta tanta ricerca con tanti artisti e ricercatori e questo diciamo è la cima del loro lavoro per fare alla gente ascoltare musica e conoscere artisti mediterranei e io ho lavorato su questo progetto e ho usato intelligenza artificiale per estrarre informazioni dai suoni dalle canzoni e facciamo con facciamo con questi ragazzi facciamo un mix interno eterno infinito ah un mix infinito infinito che non è mai uguale che si si che non è mai uguale che è così in continuità si hanno lavorato anche artisti come luca piezzo che è abbastanza bravo ma basta è molto molto bravo e luca è famoso anche nella scena di musica in l'italia e c'era una bella bella collaborazione sono molto orgoglioso di questo lavoro e in realtà sarebbe ottimo per me usare la tecnologia per fare un mondo più bello così si 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 io ho navigato un po' nel sito forse sono un po' ignorante non sono riuscito a navigare per me era stato poco intuitivo forse si si devi anche stare un po' nel sito è un'esperienza si è un'esperienza puoi fare clic anche sull'immagine puoi ascoltare puoi ascoltare musica se vai se vai al pagino inizio per esempio all'inizio sicuramente vai puoi anche caricare i tuoi canzoni si si vediamo vediamo poi anche la la sua pagina instagram se puoi girare si si la pagina la pagina eccofocus la pagina non hai tanti lavori perché lavori con la musica quindi magari sono più cose questo fa parte del progetto sicuro si 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 era blackmail molto molto interessanti devo dire che persone come te che sono davvero hanno davvero una testa incredibile un universo da conoscere sono è davvero piacevole chiacchierare io devo dire questa cosa io non dico che ho un cervello così grande ce lo diciamo noi quello che voglio fare è essere felice e porta felicità alla gente che siamo insieme provo questo per fare dare un impatto nel mondo nel mondo anche piccolo si fare un po' più contribuire contribuire sì pensate a questo pensate a tutto quello che abbiamo detto all'analytics a tutti a tutti i big data eccetera e pensate che l'essere umano è qua soprattutto per creare e per condividere ok smettiamo di fare queste cazzo di guerra di guerre informiamoci perché abbiamo tutto per informarci per avere conoscenza non pensate che conoscere tanto diventi un nerd o stupido stupido no però pensare che sei sei inferiore se sei lì sui libri a studiare no come Fotis vivi la vita come si deve perché la vive intensamente creare progetti nuovi crea progetti nuovi e soprattutto informatevi perché così non sarete sballottati da tutte le parti perché se adesso seguite lui e guardate tutti i suoi progetti capirete che tanta conoscenza tanto voglia di vivere e tanti amici che hanno la stessa competenza e anche di più no tu adesso adesso siamo rimasti in contatto siamo amici e tu sai molte più cose di me e questo è bellissimo circondatevi da persone fantastiche come lui condivite condivite le esperienze e vivete il momento perché chissà se potete farlo domani questo il momento vivete nel momento non nel futuro non nel passato ma così adesso posso fare lo faccio lo faccio perché mi dà mi fa felice non per per comprare qualcosa lavorate lavorate tanto ma capite che la vita è tanto altro non è solo non è solo lavoro non sono solo i soldi perché ce n'è in abbondanza si lavorate per creare per creare che avevate segno non per non per comprare con questo lavoro o qualcosa secondo me il mondo sarebbe molto più facile è più bello così vivere dai super questa puntata è stata meravigliosa chris grazie per la per la regia e per anche le tue domande è stato un bel piacere grazie vero che è stata una bellissima puntata sì è stata una bellissima puntata grazie a te FOTIS KUZUKOS 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 ah l'ho cercato la prima KUZUKOS KUZUKOS io vi saluto seguiteci su YouTube siete quelli da YouTube Spotify e tutte le piattaforme di podcast a noi ci trovate in tutte le altre piattaforme Elgazi Elgazi Podcast se cercate su Google troverete qualsiasi cosa su di noi io sono motion designer Chris è un studente di visual effects e il nostro amico FOTIS è un ingegnere del suono e seguite tutti i nostri progetti condividete perché vogliamo condividere i vostri e incontriamoci facciamo un bel network e spendiamo la nostra conoscenza facciamo come gli alieni cercate la conoscenza bella raga ciao a tutti ciao 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 ciao